In compagnia di Michele Capano qui al quindicesimo congresso di Radicali Italiani, oggi siamo al secondo giorno 30 ottobre, le news danno Michele Capano come candidato alla tesoreria per l'anno che sta per entrare, l'anno 2017, ci sono state alcune polemiche, alcune voci di sapori, però non abbiamo ben capito. Allora abbiamo pensato di intervistarlo per avere proprio dalla testimonianza più diretta le notizie più precise. Io do subito il microfono a Michele che ci spiega se è candidato effettivamente, se si candiderà alla tesoreria. Ringrazio LibriTV, anzi perché mi dà l'occasione di chiarire proprio rispetto al modo in cui si è entrato in congresso. Sì, c'è la mia candidatura in campo che è emersa in una intervista a Radio Radicale nella quale io ho un po' tratteggiato le caratteristiche che sono, come ogni compagno, ogni compagna sa, quelle del tesoriere che noi abbiamo sempre concepito come figura e quanto lo è stato Valerio e quanto lo abbiamo percepito soprattutto nei primi due anni del suo lavoro in affiancamento alla segreteria di Rita Bernardini che ha una sua forza, uno bis, dicevamo noi, rispetto al due che poteva essere presente in altri raggruppamenti. Nell'ambito di questa intervista ho anche detto quello che fa parte anche qui della grammatica, tra virgolette, radicale, cioè che la questione del finanziamento è questione che riguarda ogni singolo radicale e che ognuno deve vivere con urgenza, non è questione che possa essere demandata al solo tesoriere, anche perché è ovvio che il finanziamento della politica e della politica radicale è connesso alla capacità che si ha anche dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista dell'efficacia della propria azione di imporsi all'attenzione dei cittadini. Anche le risorse si reperiscono sulle battaglie e allora è chiaro che le battaglie diventano la chiave anche per il successo delle attività di finanziamento. Ho poi detto anche qui, e qui veniamo alla, credo, battuta che Riccardo Maggi, credo, abbia equivocato e che Liberi di Fumi dà l'occasione di chiarire che nella nostra tradizione non c'è la differenza tra militanti e dirigenti, anche per i numeri e i miei che abbiamo sempre avuto. Ogni radicale è chiamato a svolgere la propria politica e quella del partito, ogni radicale è chiamato a contribuire anche alle attività, tra virgolette, materiali di cui si compone la politica. Ogni radicale è chiamato a contribuire a partire da chi lo guida e la tradizione nostra è quella di Marco Pannella che andava in tv, ho detto con i cartelli, con il numero di telefono per il finanziamento, alle risorse che servono per la nostra politica. In questo senso ho detto che non esiste nel nostro partito la divisione tra chi in cravatta va in televisione e fa la grande politica e chi invece si occupa della bassa cucina. Non era un riferimento personale a Riccardo, in quest'anno c'è stato spazio, compreso chi vi parla, per la presenza nei mezzi di comunicazione, grazie anche agli spazi che proprio Riccardo, il gruppo dirigente, ha conquistato. Io ho avuto la possibilità, in modo inedito rispetto a quello che era accaduto negli ultimi anni, per esempio di una presenza a Tg.com in cui abbiamo parlato dopo la rivolta minorile di Airola della giustizia ed è qualche cosa che devo all'attenzione di Riccardo e ci sono andato in cravatta ovviamente. Quindi il mio riferimento alla tradizione nostra e alla impossibilità di dividere queste due funzioni era appunto a questo e non all'attacco a chi giustamente quando ce n'è stata la possibilità ha avuto la possibilità di essere presente. In questo senso se anzi il contesto oppure i termini sono stati infelici è qualcosa che mi dispiace e che sicuramente in questo congresso privatamente e pubblicamente si avrà modo di chiarire. Se il problema è questo credo che è un problema che verrà meno. Ci può essere un diverso problema che riguarda la continuità rispetto a questa figura storica del tesoriere radicale. Se cioè si ritiene che sia inattuale il modello che noi abbiamo nello statuto, che è quello dell'1bis che è connesso anche, e l'ho detto nell'intervista, al nostro i mezzi prefigurano i fini, quindi chi si occupa più direttamente dei mezzi siccome tende a condizionare i fini deve essere qualcuno che ha un diretto mandato congressuale e anche una forza che da questo mandato congressuale deriva e chi può forse ritenere che sia quello un modello da accantonare in favore di una più consueta e tradizionale modo di intendere il tesoriere come organo che invece è più di ausilio di collaborazione nei termini più classici del segretario. se c'è questo tipo di confronto è un confronto che il congresso dovrà fare, ma sarà questo tutto politico tipo di confronto, non un confronto su una battuta che sicuramente se è stata intesa in quel modo, devo dire che è stata intesa male, non era quello il riferimento e ripeto mi dispiace, non ho difficoltà a scusarmi se si è inteso quello come un attacco personale. Peraltro io vorrei ricordare anche che Valerio Federico e Michele Capano erano in qualche modo uniti avendo firmato uno stesso documento prima del congresso del partito radicale, il quantesimo congresso straordinario, una lettera abbastanza pesante che sosteneva che non fosse legittima quella convocazione e quindi comunque sia c'era tra i due perlomeno un'empatia politica, quindi possiamo dire che se una successione ci sarà sarà senza un certo tipo di frattura, almeno personale. E un'altra cosa che volevo chiederti, anche a seguito di questo tuo annuncio di possibile dibattito sulla rottura di una tradizione che vede il tesoriere come segretario 2, insomma e il discorso, il dibattito sulla ipotetica e possibile modifica statutaria che reintrodurrebbe la possibilità teorica di radicali italiani di candidarsi. Ecco, tu dal congresso, ma al secondo giorno senti che potrebbe scadurire da un momento all'altro questa proposta? Certamente la proposta di cui hai parlato, che potrebbe entrare in campo. Io non credo che questa proposta sia decisiva per il futuro di radicali italiani, sia perché viviamo un momento interno all'area radicale in cui questo tipo di modifica potrebbe essere strumentalizzata contro radicali italiani da chi vuole contrabbondare l'idea falsa per cui da una parte ci sarebbero i continuatori della nobile tradizione radicale di lotta politica e dall'altra quelli che vogliono fare il partitino per acquisire gli strapuntini nelle istituzioni. Sia perché in realtà per come è concepita questa clausola statutaria, cioè quella secondo cui i radicali italiani non si presenta in quanto tale con il proprio simbolo, in realtà già oggi non impedisce ai radicali italiani con altre forme che credo siano anche quelle che possano essere considerate più appetibili dal punto di vista elettorale di essere presente. Dopodiché, se alcuni compagni porranno, come è probabile la questione, la discuteremo. Non credo che sia la questione di questo congresso, perché è questione in questo senso che rischia di legare, c'è un fondale che parla del futuro. Nell'intervento, proprio guardandolo, mi è venuta in mente una frase che mi auguro di poter riferire, di Rainer Maria Lirke che dice il futuro è in noi molto prima che accada. Quei bambini che erano i genitori degli adulti che hanno fatto quelle battaglie, per cui oggi li ricordiamo, già contenevano in sé. Sarebbe infatti prezioso guardare negli occhi e parlare con le madri, i padri, le esperienze che hanno propiziato in quei bambini e che hanno prodotto poi quegli adulti. Vale anche oggi per radicali italiani. Il futuro di radicali italiani è in noi oggi, in questo congresso, ben prima che accada. La dinamica congressuale, quello che prevarrà in termini anche di visione del futuro del movimento a breve e lungo termine, si gioca oggi in relazione a quello che siamo in grado di privilegiare, anche alle contrapposizioni che siamo in grado di addormentare in una chiave positiva di rilancio. Credo che in questo senso, mi permetto di segnalare, noi siamo pochi compagni, noi dobbiamo avere attenzione nei confronti delle personalità che emergono e che possono rappresentare una ricchezza per il movimento. Non ci deve essere un atteggiamento in qualche modo difensivo e invece rinchiuso in una idea che è meno grande, meno attenta alle possibilità che radicali italiani può essere. Vi chiudo dicendo che io credo ancora nella forza della lotta politica che può mettere in campo questa comunità radicale, quella che è oggi riunita qui in questo congresso. È un patrimonio che ci viene dal passato e dalle notte di noi stessi in questi anni che dobbiamo stare bene attenti, anche rispetto agli esiti congressuali, a salvaguardare nella sua complessità, nella sua ricchezza e magari a potenziare negli anni che verranno e non invece a impoverirli con scelte che sarebbero di chiusura, troppo introvertite e che possano anche in giro per l'Italia i compagni dare il senso di una volontà che non è di arricchimento del movimento ma di impoverimento. Grazie a Michele Capano e seguiremo con lui questo congresso.